benvenuti a casa benvenuto al pubblico oggi il nostro menù si chiama farina del mio sacco perché oggi esce il mio nuovo libro che si chiama mettiamoci a cucinare sono contentissima ve lo faccio subito vedere aspetta eccolo qua e tratto dal libro facciamo panini al basilico quiche di asparagi couscous di pesce e torta verde di pistacchi che invece è una ricetta nuova di una mia amica e allora mettiamoci a cucinare